Si assapora il profumo dei caratteri in piombo impressi sulla carta nella mostra Gazzetta del Popolo, 135 anni di storia, giornalismo e cultura, inaugurata nelle sedi del Museo del Risorgimento, al Polo del Novecento e a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Raccontiamo le vicende e le storie dell'Italia, ancora prima del Regno Sabaudo e poi dell'Italia, attraverso le colonne di un giornale che ha fatto epoca, un giornale che ha attraversato le contraddizioni, le paure, le negatività ma anche le positività della comunità italiana. 135 anni dal 16 giugno 1848, giorno della prima apparizione per iniziativa di Felice Govean e Giovanni Battista Bottero, fino al 1983, anno della chiusura definitiva dopo tanti momenti difficili. La Gazzetta del Popolo aveva una penetrazione, una diffusione nelle province assolutamente incomparabile. Era un giornale al tempo stesso popolare ma anche di riflessione, un giornale che era capace di raccontare la realtà ma anche di approfondirla e soprattutto una fucina di grandissimi giornalisti. Una mostra che si compone in tre sezioni, al Museo Nazionale del Risorgimento, dall'anno della fondazione fino all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra nel 1915. A Palazzo Lascaris, gli anni dal 1916 al 1945, il periodo in cui il giornale era allineato con il governo fascista, fino alla Gazzetta d'Italia. Al polo del Novecento il periodo tra il 1946 e il 1983, con le prime pagine relative ai grandi eventi dal 1945 fino all'autogestione. Nel 1969 avevo 24 anni, mi ero laureato da poco, ero entrato alla Gazzetta del Popolo nel novembre del 1967. Era un giornale dove si poteva fare strada rapidamente, facevo già ogni tanto la terza pagina. La sera dello sbarco sulla Luna, qui abbiamo una prima pagina della Gazzetta del Popolo, ho fatto la cronaca guardando lo sbarco sulla Luna negli occhi dei torinesi, nella curiosità della gente di Torino che era assiepata nei bar, nei negozi, davanti ai televisori, a vedere che cosa stava succedendo lassù. Una cronaca torinese ma anche spaziale. Un ritorno al passato per ricordare un modo di fare informazione che non c'è più, ma che può essere un buon punto di partenza per i giovani che vogliono avvicinarsi al giornalismo, che con il digitale ha sì cambiato pelle, ma non i presupposti che stanno alla base della professione. Una mostra come questa può insegnare cos'è il giornalismo vero fatto sul campo, non più magari bisogna pensare che non è più quello di allora, ma i fondamenti sono ancora quelli e poi trasferirli nei nuovi media. Naturalmente internet è il principale e io sono convinto che abbia delle enormi opportunità che non abbiamo ancora capito. A margine della mostra, Gazzetta del Popolo, 135 anni di storia, giornalismo e cultura, due appuntamenti da segnalare. Il 2 maggio alle 21 al Teatro Vittoria, nell'Iblai a Cosa Servono le Donne, dedicata alla prima reporter donna. E il 6 maggio a Palazzo Lascaris, con il convegno, liberi di informare dalla Gazzetta del Popolo al siti journalism. L'ingresso agli incontri e alla mostra nelle tre sedi è libero. Orari e dettagli sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte.